Ciao a tutti! Come potete notare, osservando il mio viso e soprattutto ascoltando la mia voce, mi sono influenzato. Questo significa che non potrò registrare le puntate che avevo previsto per la prossima settimana, ad eccezione di una relativa ai silogismi che avevo già registrato ed è programmata per domani pomeriggio. Ma non disperate perché tornerò a tediarvi con i miei video l'altra settimana, nei quali parlerò di silogismi con relativi esempi pratici, epistemologia, fallace logiche e formalizzazione del linguaggio naturale con degli esempi pratici. Mi raccomando a non mancare. Ci vediamo nei prossimi video e ricordate, senza logica, malsicogita!